ciao a tutti benvenuti su my football jersey io sono stefano e oggi vi presento la seconda maglia del paris saint germain per la stagione 21 22 nella versione player quella cioè indossata dai calciatori come vedete la maglia bianca con le rifiniture color rosa e nero lo stemma del club il logo nike e il main sponsor sono termosaldati il che si evidenzia col fatto che all'interno non vi sono cuciture la maglia è realizzata con la tecnologia dry fit advance molto bello il fatto che le due maniche hanno rifiniture diverse rosa e nero sul fianco vi ha questa banda bianca all'interno del colletto vi ha la bandiera della francia sul retro la maglia è tutta bianca allora cosa ne pensate la maglia nella mia personale classifica questa maglia prende quattro stelle è un po titubante ma devo dire che dal vivo è veramente veramente bella ora prima di lasciarvi la parte in cui vedrete le misure e la vestibilità se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like al video ed iscrivervi al canale per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti alla prossima ciao io sono alto un metro 75 e peso 70 kg quella che vedete è una taglia large della versione player ciao 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 ciao